Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Siamo ufficialmente entrati nel mese di ottobre e quindi, come di consueto, video sulle novità editoriali. Vediamo alcuni dei libri che potremo trovare in questo mese nelle librerie. Io comincerei subito perché i libri non sono tantissimi, però comunque sono tutti un po' particolari. Inizierei con il primo che si intitola Sotto un cielo sempre azzurro di Andrea Vitali. Questo è un libro un po' particolare, parla di Mattia che è figlio unico, annoiato dalla quotidianità, annoiato dalla sua vita, vissuta in solitudine, senza fratelli, senza sorelle, pare non abbia neanche troppi amici, quindi si sente proprio solo e annoiato. Poi un giorno la sua vita viene leggermente stravolta dall'arrivo in casa del nonno, con il quale condivide la stanza per mancanza di spazio. Questo nonno è un personaggio particolare, gli racconta un sacco di leggende, un sacco di fiabe, gli racconta cose che per lui sono assolutamente stranissime, di cui non ha mai sentito parlare. Lo porta nei boschi, gli fa vedere gli uccelli, il linguaggio degli alberi, lo porta per castagne, quindi gli fa vivere comunque una vita sicuramente più avventurosa di quella che aveva prima. Lui è felicissimo e contento della presenza del nonno, poi però una mattina si sveglia e lo trova diverso. Lo trova più nervoso, straparla, quasi irriconoscibile, non gli sembra neanche più suo nonno. I familiari preoccupati chiedono una visita medica e quando il medico se ne va, Mattia l'unica cosa che ha capito è che il nonno non potrà più vivere a casa con loro. È molto triste, molto dispiaciuto di questo, non capisce perché lui non possa stare a casa con loro, anche se ha qualche malattia. E quindi, insomma, nella sua tristezza comincia a chiedersi se non ci sia un modo per entrare in questa nuova realtà del nonno, comprenderla, vederla e capirla. Quindi deve essere un libro abbastanza introspettivo da questo punto di vista. Ovviamente io non l'ho ancora letto, ma devo dire che descritto così mi attrae, perché mi sembra uno di quei libri dove c'è una sottile, silenziosa, ma profonda comunicazione tra due persone che si vogliono bene. Quindi è uno di quei libri che metterò nella mia wish list. Andiamo avanti con il secondo libro che si intitola Il segreto di Matilda, scritto da Corina Bowman. Spero sia giusta la pronuncia degli autori, che sapete che non è il mio forte. Questa comunque è la storia di Matilda, che ha appena perso la mamma e si ritrova un giorno alla porta un elegante signora che le comunica che lei sarà da quel momento la sua nuova tutrice. La porta con lei in una casa maestosa, è un palazzo, con un sacco di ricchezze, di lussi, ai quali lei assolutamente non è abituata. Trova in questo palazzo i figli di questa elegante signora che chiaramente non l'accettano non ne vogliono sapere, non la considerano assolutamente una loro pari. E quindi Matilda in questa incredulità, in questa nuova vita nella quale è stata gettata senza neanche capire il perché comincia a farsi delle domande, comincia a chiedersi perché è lì, qual è il suo legame con queste persone, comincia a fare un po' di indagine, diciamo così. Intanto il tempo passa, lei comincia a fare delle ricerche ma sta anche per arrivare una nuova guerra in Europa e quindi queste ricerche, suo malgrado, dovranno rallentare. Non so assolutamente che tipo di libro aspettarmi ma anche questo è uno di quei libri che comunque hanno alla base qualche mistero e quindi a me sapete che attirano i libri dove c'è un mistero. Il terzo libro si intitola Le leggende della tigre di Nicolai Lillin. Questo è un libro particolare perché parla dei miti e delle leggende siberiane, quindi è tutto concentrato su questi temi, si parla di spiriti millenari, di sciamani, di cacciatori d'oro, di briganti e del soffio di questa tigre, amba, che anima ogni cosa. Quindi è un libro molto particolare che può essere sicuramente interessante solo per una nicchia di persone che è quella nicchia ovviamente interessata ai libri, sui miti e le leggende. Però ho voluto inserirlo perché mi sembrava particolare. Il quarto libro si intitola Il signore delle maschere di Patrick Fogli. Questo è un thriller, un thriller però multilivello, in cui ci sono tre personaggi che hanno tre vite apparentemente molto diverse tra di loro, ma che sono tutte legate da un filo. Un filo molto pericoloso in cui si parla di caccia all'uomo dai mille volti, si parla di assassino, si parla addirittura di antiterrorismo, e loro saranno sempre in movimento e in una corsa contro il tempo. Non so che tipo di thriller aspettarmi, perché diciamoci la verità, ormai gli ultimi thriller sono abbastanza triti e ritriti, ci sono sempre quelle solite storie con quei finali scontati, quindi diciamo che mi stanno appassionando sempre meno, però diamo una possibilità comunque a questo nuovo libro che è strutturato su più livelli e vediamo che cosa ci potrà regalare. Poi il quinto libro si intitola Il sospetto di Fiona Barton, riguarda la storia di due ragazze di 18 anni che partono per fare una vacanza in Thailandia, una vacanza che doveva essere assolutamente divertente e spensierata, però a un certo punto la famiglia smette di ricevere loro notizie, quindi è molto preoccupata, interpellano una detective chiedendole di indagare, di capire perché non ci sono più notizie delle due ragazze e cosa possa essere successo. Questa detective parte per la Thailandia molto motivata soprattutto dalla notizia che è un ostello per la gioventù è andato a fuoco, quindi vuole capire se può esserci un legame, ma è motivata anche da una questione personale, perché in Thailandia c'è suo figlio da oltre due anni che da troppo tempo non vede e non sente. Quindi questo è uno di quei libri che mette vicino la storia comunque dell'indagine alla storia personale del detective e anche qui vedremo che cosa potrà regalarci. L'ultimo libro invece è un po' particolare perché si intitola Oto Jizoshi, spero sia giusto perché io il giapponese non lo so, Le fiabe giapponesi di Dazai Osamu. Questo è un libro che mi ha incuriosito tantissimo, perché l'autore prende quattro fiabe giapponesi e le rielabora completamente trasformandole in un dialogo con il lettore. Io devo dire che sono attratta in generale dalle fiabe, dal mondo delle fiabe, dai libri che parlano di fiabe, ma non tanto la fiaba classica, quindi leggersi la favola, ma dai libri che prendono le favole e le rielaborano, le analizzano, ci vanno comunque all'interno per capire quali sono tutti gli aspetti magari nascosti e segreti che ad una prima lettura non emergono. Quindi io sono molto interessata a tutti quei libri che vanno ad analizzare la fiaba. E questo, anche se non analizza la fiaba, comunque la trasforma, e quindi devo dire che mi incuriosisce molto. Questi sono alcuni dei libri che troveremo sugli scaffali delle librerie nel mese di ottobre. Fatemi sapere nei commenti se avete intenzione di leggere qualcosa di particolare, se conoscevate qualcuno di questi libri che vi ho citato. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto, e io vi mando un bacio enorme.